Con Mattias Martorano e Fabrizio Azzoli rispettivamente di Pisco Montano e delle Fischiere impressione a caldo dopo questa vittoria per 2-1 di Pisco Montano che elimina i detentori del titolo del torneo. Intanto inizio io perché mi sono presentato soltanto perché avevamo detto prima della partita e sono arrivato. Prima di lasciarti la scena Mattia, mi faccio i complimenti. Doppietta e giustamente andate in semifinale. Noi purtroppo da ex detentori del titolo vi auguriamo in bocca al lupo. Grazie. A noi da dirvi possiamo dire che la partita loro erano un po' troppo nervosi oggi e infatti il capitano si è fatto caccia proprio in molto studio. Poi l'arbitro può sbagliare, non so, perché l'arbitro fa quello che fa. Ma noi siamo stati più bravi a comprensare. Partita ricca di falli e poi niente più. Poco beach soccer, questo non è beach soccer, è un vero beach soccer, è un'altra cosa. Pure perché se faccio due gol io è veramente...